L'energia elettrica può essere prodotta in centrali idroelettriche, a carbone, nucleari, solari e eoliche, ma tutte hanno un dispositivo in comune, l'alternatore. L'alternatore è una specie di motore al contrario, in grado di trasformare l'energia cinetica in energia elettrica. In parole povere, quello che avviene è il passaggio dal movimento di una turbina al movimento di elettroni all'interno di un filo conduttore. Nel caso di molte centrali si sfrutta la forza del vapore, mentre nel caso delle centrali idroelettriche si sfrutta l'energia cinetica dell'acqua. Ed è su questo meccanismo che si basa il funzionamento della dinamo della bicicletta. Provate a vedere com'è fatta. Recuperate da un meccanico di biciclette una dinamo rotta, meglio se di plastica, e provate a smontarla. All'interno troverete un avvolgimento, cioè una bobina di filo di rame, fissa, e un grosso magnete montato su un asse che gli consente di ruotare. Ma perché si genera corrente elettrica? Tutto dipende dalle variazioni del campo magnetico esterno rispetto al circuito elettrico. Quando la calamita è immobile non c'è nessuna variazione, e per questo nemmeno passaggio di corrente. Quando invece la calamita inizia a ruotare, varia il campo magnetico che attraversa la bobina, e la corrente inizia a circolare. E come posso migliorare la resa della dinamo? Ci sono diversi modi. Più veloce è la variazione del campo magnetico, maggiore è la corrente indotta nel circuito. L'intensità di corrente prodotta dipende anche dalla superficie occupata del circuito. Le bobine sono infatti una comoda soluzione per aumentare l'area del circuito, e dunque la corrente prodotta. Alla prossima!